Tra i visual selezionati per Revolution tra arte e moda 2018 c'è anche la talentuosa battipagliese Patrizia Giannavola. Dal 30 maggio al 3 giugno Castel dell'Ovo di Napoli accoglierà le opere degli studenti dell'Accademia della Moda di Napoli. Un lavoro quello condotto dai giovani artisti e designer provenienti da tutta la regione che ha l'obiettivo di stemperare i confini tra arte, contemporanea e design e di offrirne un'interpretazione inedita. A rappresentare il nostro territorio Patrizia Giannavola, talentuosa visual battipagliese che presenterà l'installazione artistica Il Destino Verde che propone una rielaborazione del concetto di rivoluzione.